il modulo RC1 permette di avere in automatico l'area d'armatura da disporre negli elementi bidimensionali una volta calcolata la struttura otteniamo le sollecitazioni in funzione di queste sollecitazioni il programma calcola l'armatura necessaria basta andare nella scheda di verifica CA magari isolare la parte che vogliamo armare quindi attraverso dei filtri in questo caso isolare la lastra che corrisponde alla nostra platea di fondazione porla in una vista magari in pianta dopodiché attribuire i parametri con cui verrà calcolata l'armatura necessaria ad esempio il materiale o il tipo di barre di acciaio da utilizzare piuttosto che lo spessore possono essere variati ancora in questa fase otteniamo poi delle mappe colore ogni colore corrisponde a un determinato valore di area a metro lineare da disporre nella parte superiore in direzione X nella parte inferiore sempre in direzione X nella parte superiore in direzione Y quindi per le due direzioni principali X e Y avremo l'armatura relativa alla faccia superiore e alla faccia inferiore a questo punto possiamo introdurre noi un'armatura di riferimento in questo caso scegliamo di introdurre una maglia di diametro 8 compasso 20 cm in entrambe le direzioni e su tutte e due le facce per disporla su tutta la platea basta selezionare il dominio e andarlo poi successivamente a selezionare il programma in questo momento calcola e dispone l'armatura che noi abbiamo richiesto possiamo visualizzare l'armatura introdotta anche qua sempre nelle due direzioni e in corrispondenza delle facce superiori e inferiori e visualizzare addirittura la differenza tra l'armatura che abbiamo introdotto e quella che lui aveva calcolato quindi i valori negativi stanno a significare delle mancanze di armatura mentre i valori positivi ci indicano un'eccedenza di armatura per sopperire la mancanza di armatura andiamo a introdurre un'armatura ulteriore localizzata per esempio solo nella parte inferiore e solo su alcune aree della platea cioè laddove è necessario introdurre il rinforzo vero e proprio selezioniamo quindi la forma rettangolare e andiamo a disporre sfruttando riferimenti o coordinate l'area aggiuntiva di armatura procediamo con questa operazione finché non abbiamo disposto tutti i rinforzi sulla nostra platea a questo punto con colori differenti il programma ci notifica le zone rinforzate che pur mantengono comunque l'armatura di base che avevamo dato su tutta la platea e la zona in blu che ci identifica invece la zona armata semplicemente con la rete andiamo a controllare quindi a questo punto una volta introdotti i rinforzi gli ammanchi di armatura se vediamo tutti i valori positivi vuol dire che abbiamo solo eccedenze quindi che l'armatura è corretta sia quella superiore o inferiore in direzione x e y chiaramente queste metodologie possono essere utilizzate per armare qualsiasi elemento bidimensionale all'interno di axis sia esso orizzontale, verticale o inclinato all'interno di axis sia un'interno di axis sia un'interno di axis all'interno di axis sia un'interno di axis sia un'interno di axis all'interno di axis sia un'interno di axis sia un'interno di axis Grazie.